Anche la riqualificazione del lungomare di Torrette sta procedendo. Inizialmente abbiamo dovuto fare una bonifica bellica per escludere la presenza di ordigni. È arrivato un parere favorevole da parte del servizio militare che appunto ci permette oggi di continuare nel lavoro. Le aree di intervento come prevede il progetto sono tre. L'area verde dei giardini Tonucci, il lungomare di via Stelle di Mare e nello stesso tempo anche la creazione di un nuovo spazio che sarà proprio quello dell'anfiteatro perché cambia proprio questo progetto che aveva l'obiettivo di cambiare la visione del lungomare oltre che la vivibilità, quindi creando una suggestione ma anche spazi nuovi dove appunto le persone potranno sostare. Ora lunedì partiremo praticamente con i lavori dell'anfiteatro nel senso che andremo a inserire i pali delle sottofondazioni e così si procederà per stracci. I pali una volta posati, una volta fatto tutto lo scavo dovremo attendere che appunto aderiscano sul terreno e nel frattempo procederemo in quella che è l'area verde dove dovrà essere fatta un miglioramento perché ricordiamo che all'interno dell'area verde verrà installata una nuova area fitness proprio di sport all'area aperta, verrà realizzata un'area giochi, tutto un nuovo marciapiede all'intorno proprio per metterlo in sicurezza e far sì che ci sia un'accessibilità migliore tenendo presente che questo progetto proprio abbatte tutte quelle che sono le barriere architettoniche. Contemporaneamente lavoreremo anche su via Stelle di Mare laddove è stata smantellata la pavimentazione e quindi ci sarà rifacimento dei massetti, delle cordolature, di quelle che sono poi i perimetri degli angoli dove faremo delle nuove cispugliature, degli arredi e così in modo sequenziale anche su via Stelle di Mare da un primo tratto lo approfondiremo di volta in volta sino arrivare alla conclusione dei lavori che prevediamo per fine maggio-primi giugno proprio per non andare troppo ad appesantire o quantomeno a creare disagi a quelle che sono le attività prospicenti che sono pronte ad affrontare la nuova stagione al meglio. Grazie. Grazie.